All'interno di questo stand abbiamo voluto esporre una serie di novità che vogliono essere un po' la sintesi dello sforzo dell'azienda per affermare il suo marchio nel mercato dell'illuminazione architetturale, tecnica architetturale. Come sintesi dei prodotti esposti forse la gamma di punta che presentiamo quest'anno è la collezione dei cementi che vuole essere un tentativo di dire qualcosa di nuovo nel mondo dell'illuminazione architetturale all'interno di un quadro produttivo che se vogliamo si è negli ultimi anni abbastanza appiattito per il ridursi, per il semplificarsi all'estremo delle forme che tendono a far percepire sempre meno la differenza e la personalità di un'azienda dall'altra. Con questa collezione abbiamo lavorato soprattutto sulla ricerca di nuovi materiali pur rimanendo all'interno di linee sempre estremamente semplici e essenziali, però appunto cercando di proporre al mondo della progettazione un materiale che esca dai canoni del metallo o dei materiali plastici. I cementi sono una gamma di prodotti realizzati in un materiale innovativo che si chiama Piuma Cemento che è un materiale brevettato e che praticamente fa sì che i prodotti di illuminazione che sono sia da interni che da esterni abbiano l'aspetto, le caratteristiche di resistenza sia agli agenti atmosferici che agli urti e anche la sensazione tattile, la texture del cemento, ma arrivano a pesare fino all'80% in meno di oggetti analoghi realizzati in cemento pieno. Grazie